Vai così, inizia per i vizi e Emanuela urlando, lei esce subito purtroppo sbagliando I concorrenti escono, nessuna buona nuova e l'unità di indovinare è Manola Nuove frontiere, intanto prova a bere, entrano i sanzoni che fanno ridere Davide si siede, con Manola va in finale, vince la beneficenza, questo è ciò che vale Avanti un'altro pure di sera Avanti un'altro pure di sera Grazie a tutti.